Siamo praticamente giunti alla fine quasi di questo modulo sulle strategie di trading e vorrei fare una piccola parentesi su quello che sono le strategie avanzate, quindi vorrei approfondire con voi una parte che magari non sarà preponderante nel corso perché dedicheremo pochi minuti, ma che può aprirvi su varie prospettive. Questo riguarda soprattutto l'analisi dei dati, quindi è dal punto di vista più quantitativo che discrezionale, ma può esservi lo stesso di supporto. Se siete appassionati appunto di analisi quantitative o algoritmiche, provate a studiare i dati storici, aperture, chiusure, massimi e minimi, e tutti quei dati che vi possono permettere di provare a fare dei backtest su determinati titoli per cercare di provare a trovare delle strategie o degli schemi ripetitivi che si possono adottare. Facciamo un esempio, se noi prendiamo un titolo e scarichiamo i dati storici, ad esempio utilizziamo Excel per elaborarli, ma potete utilizzare anche qualunque tipo di piattaforma che vi permette di vedere anche questo tipo di possibilità, sia dal punto di vista grafico e visivo, sia dal punto di vista proprio del backtest. Ci sono anche delle piattaforme indipendenti che offrono questa possibilità, cioè fare proprio dei backtest sui dati storici, quindi testare la probabilità di successo delle vostre strategie sui dati passati. Come potete utilizzare sostanzialmente i dati storici e le analisi di tipo quantitative e algoritmiche? Proviamo a ragionare un attimo insieme, perché è veramente un discorso molto interessante che può aprirvi delle prospettive nuove dal punto di vista della vostra operatività. Per cercare di spiegarvi al meglio quelli che possono essere le possibilità che offre l'analisi quantitativa, anche la più semplice, che potete realizzare con degli strumenti anche non particolarmente avanzati, vi faccio qualche ipotesi. Allora, per esempio, prendiamo il titolo Amazon, scarichiamo i dati storici, utilizziamo l'Excel, quindi individuate nei dati storici e nelle colonne di Excel le aperture, le chiusure e i massimi e i minimi e provate, per esempio, a controllare con quante probabilità, dopo per esempio una chiusura positiva del titolo, il giorno dopo il prezzo ha aperto sopra la chiusura del giorno precedente. Quindi noi abbiamo, non so, un titolo Amazon che ha chiuso positivamente in una determinata giornata, calcolate quante volte il giorno successivo ha aperto in positivo, quindi per esempio il 60% delle volte, il 70, il 30, il 20 e con quante probabilità poi ha chiuso la giornata successiva in positivo. Applicate anche delle percentuali, per esempio valutate quante volte un titolo, adesso prendiamo sempre il nostro Amazon per fare un esempio, ha chiuso sopra il 2% e ha aperto il giorno successivo sopra la chiusura, quindi datevi magari anche sulla positività delle percentuali. Quindi non solo la probabilità dopo una chiusura positiva di un giorno successivo un'apertura ulteriormente positiva, ma provate a dire ha chiuso positivamente al 2%, quindi in quella giornata ha avuto una variazione del 2% in positività, il giorno successivo è stata un'altra giornata positiva e la giornata ha aperto e ha chiuso in positivo. Sostanzialmente con quante probabilità questo è avvenuto? Se fosse il 60% delle volte ci sarebbe ad esempio un'ottima opportunità di creare una strategia sopra questo. Calcolate e valutate ad esempio i bias stagionali, settimanali, orari, cioè valutate per esempio le aziende che hanno delle correlazioni con le materie prime, che sono stagionali, hanno magari delle caratteristiche collegate alla stagionalità delle materie prime. Fate una valutazione, analizzate il comportamento, guardate se ci sono degli schemi ripetitivi. Per esempio ci possono essere degli schemi ripetitivi sugli orari. Magari potete notare che in tutti i giorni della settimana, per esempio dal lunedì al venerdì, nell'orario tra le due e mezza, le tre e mezza o tra le nove e mezza, le dieci e mezza, un determinato titolo ha una certa probabilità di essere positivo o di essere negativo se la giornata precedente è stata una giornata positiva, oppure soltanto semplicemente una questione di orario, oppure valutate se i giorni della settimana, per esempio il lunedì e il venerdì, potrebbero essere giornate ribassiste statisticamente parlando e da parte centrale della settimana, per esempio, potrebbero essere delle giornate invece positive. Provate a vedere se esistono degli schemi ripetitivi all'interno del titolo che state studiando. Cercate di provare a vedere se ci sono degli schemi che potete andare a replicare e con quanta probabilità questi schemi possono avere del successo nel tempo. Per fare questo ovviamente è necessaria una serie storica abbastanza lunga che prenda più e diverse fasi di mercato, perché normalmente si utilizzano per fare i backtest a livello algoritmico e quantitativo un numero massivo di dati, quindi prendete addirittura non soltanto mesi ma anche anni, in modo tale che avete e potete considerare anche degli anni particolarmente sfavorevoli per i mercati, perché in anni magari di crescita si possono avere dei bias particolari, in anni di calo se ne possono avere altri. Quindi perché il dato possa essere attendibile, valutate i dati nel lungo periodo, ovviamente dando magari maggiore peso e ponderandoli per i dati più recenti, quindi magari affidate e date maggiore peso ai dati, agli ultimi dati, quindi agli ultimi mesi o agli ultimi anni. Il mondo degli indicatori e degli oscillatori poi è molto vasto, provate diverse combinazioni, provate e fate danti backtest, questo magari dal punto di vista algoritmico può non avere una valenza, ma lo può avere ad esempio dal punto di vista discrezionale. Però provate a fare backtest, perché i backtest vi tolgono anche quella parte di stress e di emotività che stare sul mercato provoca. Quindi se siete dei trader, soprattutto vorreste diventare dei trader dal punto di vista professionale, dovete eliminare anche tutta la fase di tensione e di stress che vi porta al mercato. Quindi più backtest fate, più probabilità a vostro favore avete, più è facile che le tensioni e la convinzione con cui entrate a mercato sia maggiore e lo stress e le tensioni siano minore, la convinzione a mercato sia maggiore. E questo potrà portarvi a un trading più favorevole o comunque un trading che abbia più probabilità di essere un trading di successo. Grazie. Grazie.